Ciao Enrico, sono Victor Quadrelli, volevo farti un saluto e volevo farti anche i complimenti per la carriera. Beh, effettivamente una carriera eccezionale, cioè piena di personaggi, devo dire che hai lavorato veramente con tanti personaggi, la creme della creme. Beh, in effetti sono veramente tanti i personaggi con cui hai lavorato, ma con questi personaggi hai lavorato Enrico? Porca miseria! Va 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 va, una roba pazzesca, ma con quanti hai lavorato Enrico? Bastia che roba! Oh, ma infatti ho una cifra. Vabbè, comunque le faccio i miei più graditi auguri, eh? Le faccio un saluto da parte mia, della Pina e della Babuina. Vabbè, complimenti, eh signor Montesa, eh, sacco, eh, sacco. E poi ultimamente mi sto allenando a fare la voce di un altro che è in grande, Cagliardo, di Roma. E devo dire che non è facile perché ha una voce particolare, però ce la posso fare. Vabbè Enrico, ti faccio un saluto.